amici cd atelier mtb eccomi qua a solden austria a 1300 metri di altitudine circa pronto per un bel viaggio con la mia mitica puma e se andremo a fare una traccia chiamata gletscher ghiaczaio express quindi vuole dire che andrò in un ghiacciaio con un caffè in mano è una traccia sembra abbastanza tastarella che devo arrivare spero di farcela a 2008 c'è una bella salita e longa la giornatella mi scappa la 2 porca miseria non c'è niente qua è troppo presto non posso farla quindi me la tengo allora pronti via aspetta prima del via in realtà ragazzi sono dovuto andare lungo il fiume tra ora non c'è spuglio non potrò più e spoglia tutto vabbè vi lascio risparmi i dettagli comunque pronti via subito per la gletscher strass porca troia parte subito 13 6 7 per cento giusto per rompere il fiato montagne le montagne aspettiamo il sole ma io faccio già il mio primo stop ragazzi già muoio dal caldo piccolo aggiornamento a circa 2000 metri c'è il sole e voi direte se me ne frega comunque via via te voglia qua le longa ecco volevo far notare questo piccolo cartello 2,4 chilometri di 12 altro che c'è il cippo zio poni aiuto tiffenbach gletscher rettenbach gletscher ad qua ah signor skip pass cazzo non ce l'ho vabbè scala scala non so se sono io che ho raggiunto il sole poi lui ha raggiunto me non finisce più sono neanche a metà bellissimo comunque adesso che sorge spettacolo o macchina allora sono 2000 metri sto entrando come vedete nella bike republic republic soldi perché qua ragazzi è veramente la repubblica della bici hanno costruito a best senti che ecco spettacolo allora ciò che hanno fatto un sacco di piste di discesa tutto d'enduro bellissime per la bici hanno segnato per chi magari come me piace fare salite giri anche dei bei tour tutto segnalato e quindi se potete venire venite a fare un salto vale veramente la pena c'è proprio lo ski pass per il mountain biker venite muniti se volete fare discesa di un po di protezioni o per bacco devo andarla su oh signor perso il filo di discorso no però pedalo pedalo zitto che consumi energie allora ora ragazzi sono arrivato al casello mi tocca tocco pagare la tassa no 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 niente andriner perché passovi ragazzi passata la macchina bella sta strada spettacolare ci voleva la bici da corsa per far sto pezzo e da enduro per scendere va bene non devo scala la marcia ragazzi orca o comunque non è la strada per il ghiacciare per ridere il ghiaccio c'è davvero la zoom ma si sgranerà tutto vedete quel bianco e andare sopra l'albi sa che dovrà arrivare signor meredetto allora sono 2.455 quasi arrivato volevo solo darvi uno scorcio più grande del ghiacciaio vediamo vedete ma lì c'è della neve diciamo un po simmetrica non so come facciano tagliarla e poi quello è tutto ghiacciaio pare che comunque dovrò andare qui vedete quel rifugio pare pare adesso seguo